In questo video voglio farvi vedere tutti i prodotti beauty che ho acquistato su Amazon innanzitutto perché è una tipologia di video che a me piace particolarmente cioè nel senso se io trovo un video di questo genere sulla mia home di YouTube io di sicuro lo guardo perché lo trovo interessante inoltre alcuni prodotti io non li ho mai trovati in negozio ho sempre fatto molta fatica e quindi sono andata a cercarli su Amazon altri invece si trovano in negozio però perché li ho acquistati su Amazon? Nel video ve lo spiegherò Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo ed è uno specchio eccolo perché ho acquistato un nuovo specchio? Io ovviamente ne avevo già uno però era piccolino e mi permetteva di vedermi sempre nel dettaglio e in maniera molto nitida quindi cercando un po' fra i risultati ho appunto trovato questo che mi ha ispirato da subito perché? Perché è uno specchio che è composto da... è diviso in tre parti ve lo faccio vedere velocemente appunto c'è lo specchio centrale e poi ci sono due zone laterali lo specchio centrale è molto grande e molto nitido in più è circondato da dei led che possono essere attivati tramite il pulsantino touch che è presente sullo specchio e i led poi possono essere modificati di intensità quindi l'intensità della luminosità sempre tenendo premuto questo pulsantino touch quindi si abbassano e si alzano per appunto attivare i led è necessario che lo specchio sia o collegato con il cavetto usb che vi esce nella confezione oppure inserendo delle batterie nelle parti invece laterali quindi a sinistra dello specchio grande voi troverete uno specchio praticamente uguale però ovviamente più stretto e più lungo che aprendolo vi permetterà quindi di vedere il vostro profilo nella parte invece destra dello specchio centrale avrete appunto altri due specchi che appunto sono divisi in questo modo qui in alto avete lo zoom 2x e qui in basso lo zoom 3x quindi vi vedrete sempre dal profilo però ovviamente potrete andare a vedere più nel dettaglio la cosa carina poi di questo specchio è che esce anche un ulteriore specchietto dotato di ventose che voi potrete attaccare dove vorrete oppure tenerlo semplicemente così in mano con uno zoom 10x quindi realmente potrete vedere ogni singolo poro del vostro viso inoltre una cosa molto bella di questo specchio è che è dotato di base ovviamente che presenta un incavo dove voi potete appunto appoggiare oggetti o altre cose in più lo specchio permette una rotazione quasi completa quindi davvero lo potete inclinare e posizionare come è più comodo per voi quindi assolutamente ve lo consiglio questo specchio viene venduto su Amazon poi vi lascerò il link a 21 euro ovviamente ci tengo a precisare che questi sono i prezzi a cui ho acquistato io i prodotti però i prezzi possono subire variazioni in base al periodo e altre cose ed ecco a voi il miracolo ok vabbè allora questa è una sauna facciale lo so e voi direte ma chi è che si compra una sauna facciale? perché? io, noi, probabilmente, voi prossimamente sì, ce la compriamo e perché? è mai capitato di farvi una maschera nera farvi i cerottini e di vederli completamente vuoti? a me sì e questa cosa mi ha sempre urtato tantissimo e quindi ho cercato insomma delle soluzioni su internet qualche consiglio qualche idea e quello che ho trovato è stato proprio questo una sauna facciale perché appunto essendo una sauna voi cosa fate? inserite l'acqua qui dentro lui la scalda e la scalda a velocità impressionante quindi nel giro di pochissimo davvero l'acqua diventa bollente e viene trasformata appunto in vapore a parte che è piacevolissimo perché voi vi mettete qui con questa con questa acquetta calda questo vapore caldo che è proprio una coccola fine giornata dopo il lavoro che è fantastica l'utilizzo di questo prodotto diventa molto efficace essendo il poro già dilatato e anche di molto questo appunto facilita poi la fuoriuscita delle impurità presenti nella pelle io lo utilizzo appunto prima di farmi le maschere o i cerottini ma assolutamente se voi volete utilizzarlo anche da solo potete appunto farvi la sauna anche tutti i giorni quotidianamente è lo stesso brand che ci rassicura su questo aspetto insomma farla anche tutti i giorni ci fa bene e non ci fa male anche perché comunque è vapore quindi non fa assolutamente nulla l'unica raccomandazione che vi posso dare e che comunque ce lo dice anche il brand è di non tenere il prodotto troppo vicino perché ovviamente il vapore è caldo quindi rischierebbe insomma non di bruciarci però insomma di non essere poi così tanto piacevole quindi occhio alla distanza gli altri prodotti di cui voglio parlare sono questi due mascara allora perché li ho comprati su Amazon e non in negozio la risposta è molto semplice perché era più conveniente a livello economico infatti il mascara di Maybelline in questo caso appunto è Lush Sensational che avrete notato il mio mascara preferito lo uso sempre in negozio si trova ad un prezzo di circa 12 euro poi anche lì ovviamente dipende io su Amazon invece l'ho trovato al prezzo di 6-7 euro quindi ovviamente c'è comunque una bella differenza invece il mascara Paradise Extatic di L'Oreal in negozio generalmente si trova al prezzo di 17 euro io invece su Amazon l'ho trovato al prezzo di 8 euro quindi anche qua è un grande sconto in più c'è ovviamente la comodità di acquistare e di ricevere il tutto a casa che per me è una comodità non indifferente ovviamente anche in questo caso i prezzi possono variare infatti quando ho guardato recentemente questi due mascara il prezzo era salito a 10 euro che in ogni caso è pur sempre un prezzo più basso rispetto a quello che trovereste in negozio passiamo ora al prossimo prodotto che per me è stata una vera e propria scoperta il set di pennelli Jessup penso si pronunci così allora perché sono entusiasta di questo acquisto perché volevo completare diciamo il mio set di pennelli però andando in negozio comunque un pennello costava 15 l'altro 20 quell'altro 30 insomma effettivamente sarei andata a pagare tantissimo per riuscire a completare il mio set cercando su Amazon e guardando anche altri video recensione che appunto potevano darmi un'opinione un parere ho appunto scoperto questa marca che fa questi set di pennelli vari da quelli più piccoli a quelli più grandi ad un prezzo davvero conveniente infatti questo set che comprende in totale 25 pennelli tra cui pennelli per il viso e pennelli per occhi l'ho pagato solo 40 euro quindi praticamente al prezzo di uno o due pennelli in base anche alla marca quindi ovviamente se voi ci pensate è assolutamente conveniente e non soltanto per il prezzo comunque basso ed economico ma anche perché la qualità di questi pennelli è davvero alta da quando io li ho acquistati li uso tutti i giorni e non me ne separo mai per farvi un esempio adesso io prendo il powder brush che è questo qua è assolutamente morbidissimo io lo uso per stendere la cipria su tutto il viso ed è un piacere passarlo appunto sul viso perché è assolutamente morbido oppure fa parte appunto di questo set quello che è diventato il mio pennello preferito da bronzer il luxe face definer che è questo pennello appunto fitto morbido con la forma a fiamma insomma un po' a punta che è perfetto come vi dicevo in un altro video perché vi va appunto a scaldare il viso ma inoltre vi va a creare questa linea presente ma comunque soft che va appunto a definirvi lo zigomo passiamo ora ad un'altra cosa che per me è diventato insomma il prodotto davvero quotidiano e che uso sempre e che mi piace soprattutto utilizzare e voi direte ma che cosa sono? sono dei dischetti struccanti in bambù perché? perché per un discorso di limitare gli sprechi l'inquinamento e quindi un discorso di ecosostenibilità io mi ero stancata di utilizzare i classici dischetti di cotone che appunto voi usate e buttate perché ovviamente in questo caso essendo di bambù e essendo appunto riutilizzabili voi li usate appunto per struccarvi poi li inserite tutti dentro questo sacchettino che vi viene dato in dotazione appunto all'interno del pacco e buttate tutto in lavatrice e lavate tutto insieme al resto del bucato e questo pacchetto vi esce con 16 dischetti struccanti che sono suddivisi diciamo in due tipologie la maggior parte dei dischetti è diciamo di questo tipo con un bordino grigio azzurro una texture molto liscia molto vellutata più sottile che serve appunto per struccarvi il viso e invece quest'altra tipologia sono solo quattro dischetti con una grana un pochino più grossa del tessuto del materiale che serve per andare a rimuovere maschere oppure per fare lo scrub anche perché insomma parliamoci chiaramente quando noi utilizziamo i classici dischetti di cotone ne usiamo probabilmente tantissimi e ovviamente vanno tutti buttati nel pattume dell'indifferenziata e quindi non possono essere riciclati ed è tutto appunto inquinamento che noi andiamo a produrre che potremmo evitare io sono dell'idea che quando possiamo è meglio che facciamo un piccolo gesto quotidiano ogni giorno che possa aiutare noi e il pianeta per insomma vivere un pochino meglio ok ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video perché infatti vi voglio parlare dell'ultimo prodotto che è un porta beauty sponge quindi un porta spugnetta è molto comodo perché appunto come vedete è tutto buccherellato quindi questo permette alla spugnetta di asciugarsi comunque all'aria che è molto importante in più appunto si apre roteando la base e inserendo all'interno la spugnetta e si richiude nello stesso modo è molto comodo appunto per portare la spugnetta in viaggio perché in questo modo avete sempre un luogo dove tenere appunto la spugnetta e non dovete gettarla così a caso nella trousse o in mezzo agli altri prodotti ma avendo la base ovviamente voi potete anche appoggiarlo su una qualsiasi superficie infatti io non la uso soltanto per quando vado in viaggio comunque devo portarmela dietro ma io quotidianamente tengo la mia spugnetta qui dentro appoggiata a quella che è la mia postazione make up questa piccola case chiamiamola così è venduta su amazon al prezzo di 12 euro quindi comunque molto conveniente vi ripeto da quando io l'ho scoperta e l'ho acquistata non ne faccio mai a meno la uso davvero sempre quindi un altro prodotto che vi straconsiglio spero che questo video possa esservi stato utile lasciatemi un bel commento un like mi raccomando iscrivetevi al canale se vi va di supportarmi e nulla ci vediamo al prossimo video un bacio ciao ciao ciao